A tutto lo staff, auto pronta a uscire. Signori, ci siamo. Manca giusto una settimana all'inizio del campionato Academy di Formula Motorsport Drivers e sono nella scuderia McLaren. Questo video è solo di presentazione dell'auto. Sentite che sound. Sentite che sound. Sentite che sound. Sta per iniziare la mia nuova avventura. Quindi mi raccomando, seguitemi sul canale e non perdetevi le mie gare. A presto. Grazie. 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 Grazie.